eccoci live buonasera a tutti sono felicissima questa sera di replicare un incontro con massimo carlotto che saluto buonasera massimo ciao cecilia visto il grande successo che c'è stato la libreria fertrinelli con con appunto la presentazione di questo libro che faccio vedere immediatamente il francese di mondadori editore e siamo qui a replicare per tutti quelli che non c'erano e confido che questa sera sarete in tanti e approfitto per ricordarvi che comunque noi aspettiamo le vostre domande i vostri saluti qualsiasi cosa io sono pronta a pubblicarli quindi farò anche da regia questa sera per cui intanto vi dico chi è massimo carlotto come sempre per chi non lo conoscesse uno scrittore drammaturgo giornalista saggista fumettista sceneggiatore italiano e anche attore abbiamo le prove che sei anche attore e mi è piaciuto tantissimo un articolo che è uscito da un mesetto sul corriere la lettura che approfitto per far vedere perché ogni tanto me lo vado anche a rileggere dove c'è ci sono due autori di noire a confronto massimo carlotto pierle mettre a cura di anna chiara sacchi questo articolo e mi piace una definizione del noire italiano che è nato da esigenze molto particolari prima di tutto dalla constatazione che questo paese è pieno di verità negate allora ti chiedo massimo ma giusto per proprio iniziare bene la serata ma è una peculiarità tutta italiana questa di queste verità negate allora innanzitutto voglio ringraziati cecilia per questa ripetizione nel senso che già mi hai presentato a milano è una grande gentilezza presentarmi anche online è un piacere no e poi voglio proprio farti i complimenti per il grande lavoro che fai a sostegno della letteratura di genere italiano ti ringrazio pubblicamente perché secondo me proprio te lo meriti ecco ti ringrazio ascolterò questa registrazione fino ad averne la nausea dopo questa no ma è vero però dai c'è bisogna anche riconoscere il contorno ed in mare fa veramente un grandissimo lavoro detto questo detto questo è il paese delle verità negate una peculiarità soprattutto italiana nel senso che andando corti rispetto alla storia se io penso da 69 in poi da piazza fontana in poi vedo che questo paese un grande buco nero dove non c'è mai stata una verità ufficiale pienamente riconosciuta io ho visto solo di verità ufficiali che si sono contraddette attraverso i gradi di giudizio ma anche da un punto di vista storico siamo ancora con casi totalmente aperti come ustica la strage di bologna la trattativa stato mafia e se andiamo a vedere complessivamente la storia italiana vediamo che ci sono tante anche storie minori che sono dei buchi nei allora in un paese dove una verità più ufficiale meno è creduta che ha messo in crisi anche di fatto il giornalismo giornalismo in italia purtroppo non ha quella autorevolezza necessaria per cui si scrive un articolo sai che comunque il massimo della verità che ha raggiunto il giornalista il ruolo del romanzo poliziesco è diventato un altro non tanto nel romanzo poliziesco ma inteso come noir è diventato un altro è quello di coprire questo grande buco con una serie di romanzi che si pongono il problema della verità ricostruita dall'autore attraverso un'inchiesta infatti io non posso che ringraziare te e tutti gli autori che utilizzano questo questo strumento per sondare quelli che sono appunto le censure chiamiamole così italiane e tenere sempre quel nervo scoperto su situazioni che ancora non veramente sono un buco nero delle delle informazioni quindi io ringrazio te e appunto tutti gli autori come te che fanno questo questo lavoro perché poi alla fine serve anche per per noi lettori voglio dire avere anche le situazioni più chiare di quelle che sono in questo caso proprio anche attraverso il francese tu racconti con con questo romanzo proprio un nuovo personaggio il francese Tony Zanchetta che vorrei ovviamente come sempre che raccontassi un po tu della trama e mi è piaciuto in questo libro in particolare perché anziché raccontarci eh una storia nella quale protagonista è l'ispettore il commissario e diciamo che in genere è la la figura che che porta avanti poi la storia in un romanzo giallo noir qui eh fai rendi protagonista un macro come ti è venuta l'idea e appunto raccontaci un pochino di di del libro ecco guarda i macroi e Tony Zanchetta mio personaggio che si autodefinisce eh macro ma in realtà è un pappone qualsiasi magnaccione proprio e sono personaggi così moralmente ripugnanti che la letteratura li ha sempre editati con con grande accuratezza ma anche il cinema e la televisione ha tenuti sempre un po' come personaggi laterali invece io ho sempre creduto che in realtà siano dei personaggi fondamentali perché sono i personaggi proprio di mediazione per il mondo delle donne che vendono il proprio corpo e gli uomini che lo acquistano i clienti quindi non è una figura marginale una figura fondamentale all'interno del mondo della prostituzione e quando mi è capitato l'occasione ne ho insomma mi sono tuffato e ho raccolto il materiale necessario giusto per scrivere un romanzo come il francese e come personaggio è il distillato di una serie di personaggi che ho conosciuto che ho incontrato e che alla fine mi hanno permesso di raccontare il personaggio l'ambiente dei magnaccia delle prostitute e dei clienti ecco questo è è lo sguardo che dà in prima battuta il il romanzo allora chi è e allora toni zanchetta detto francese è un po pure i vecchi adatta prima si è fatto le ossa a milano poi è tornato in veneto e si è costruito una maison con con 12 donne tutti con nomi francesi d'oltrapi ma in realtà è tutta fuffa fuffa per un giro di clienti che si illude insomma di avere a che fare con l'esotico ma di esotico non c'è non c'è veramente nulla e ha costruito il suo mondo perfetto che funziona fino a quando claire una ragazza di 23 anni che finge di essere una studentessa non scompare e da quel momento in poi lui è costretto a confrontarsi con con la legge con l'opinione pubblica con i social insomma ha un tutta una serie di problemi ed è costretto a rivedere completamente la propria esistenza e siamo a pagina 2 infatti c'è tantissimo in questo romanzo io ho una marea di domande alcune già fatte alcune che ti farò quindi cari lettori preparate la branda perché non so come andrà a finire stasera senti a leggere di questo personaggio mi hai fatto ricordare anche se in realtà non c'entra nulla ma forse proprio come come spirito mi hai fatto ricordare i capi e gli aderenti alle quattro criminalità italiane di tipo mafioso che sono tanti sono proprio dei ferventi cristiani e anche il francese in realtà crede di essere una brava persona no ma in cosa crede poi alla fine zanchetta allora la questione complessa perché i personaggi come zanchetta sono prima di tutto dei grandissimi manipolatori e non possono non esserlo perché devono convincere devono convincere il prostituto a lavorare per loro devono convincere i clienti è un mondo è un mondo di manipolazione continua lui si alza la mattina e manipola tutti e allora che cosa fa il francese nel romanzo tenta di manipolare il lettore cerca di convincere il lettore di essere in fondo una brava persona perché manipola anche se stesso manipola così tanto che alla fine manipola tutti se stesso eccetera eccetera e vedo che parecchi lettori elettrici sono caduti nella trappola del francese perché lui veramente manipola tutti lui manipola se stesso lui dice in fondo sono un imprenditore sono una brava persona io penso al benessere no in realtà lui è un parassita e basta no che si trova in una situazione in cui di fatto lo sappiamo fin dall'inizio quindi possiamo dirlo di cui è assolutamente innocente ma questo non vuol dire che sia una brava persona infatti c'è questo commissario come se tradizione che ha capito benissimo il personaggio ne parleremo anche del commissario di zone ne parleremo e vorrei ricordare tra l'altro che questo romanzo è uscito nella collana giallo mondadori quindi tu esci per la prima volta in questa collana quindi mi sembra importante insomma visto che è praticamente dal 1929 che esiste anche una grande insomma un grande pregio una grande soddisfazione e devo farti i complimenti perché come autore tu riesci sempre a reinventarti creato dei personaggi nuovi cambiato anche schemi narrativi diversi tra loro e quindi e questo te lo chiesi anche durante la presentazione immagini lettori una volta che ti avranno chiesto sì vabbè ma l'alligatore perché poi ovviamente questo alligatore è comunque un personaggio che è rimasto nella diciamo nel cuore dei lettori e quindi fanno sempre un po fatica a a leggere di un nuovo personaggio però in realtà questi personaggi che tu crei come si dice bucano se bucano lo schermo bucano diciamo nelle nelle nella letteratura nel senso che poi hanno una loro si prendono un loro spazio ma se lo prendono proprio bene guarda proprio oggi sono stato minacciato da un lettore che mi ha ricordato che dal 2017 che non pubblico un omaggio dell'alligatore io sinceramente non so cosa fare nel senso che io non lavoro sui personaggi ma sulle storie per cui se la storia non è adatta all'alligatore l'alligatore sta a casa sua con una bottiglia di calvadosso aspetta oppure come dico sempre in giro infognato in una in un'indagine molto complicata appena torna a casa me la racconta la scrivo adesso vediamo cosa succede però vedo che succede esattamente quello che dicevi cioè incontro lettori dicono ma bello all'alligatore c'è bello il francese mi è piaciuto proprio sì ma l'alligatore quando torna e poi è sì ma pellegrini quando torna poi avevi promesso un altro romanzo del turista che fine ha fatto è così e mi caccio sempre nei guai da questo punto di vista però io credo sono profondamente convinto che un percorso narrativo di un autore no deve andare in questa debba assolutamente andare in questa direzione c'è il fatto anche di ricercare continuamente andare perché i personaggi se tu hai scritto io credo di aver scritto 10 romanzi dell'alligatore 9 o 10 ma è un'impostazione un punto di vista sulla narrativa di genere io devo andare oltre questo posso poi tornare all'alligatore riproporre quel punto di vista arricchendolo ma non posso essere legato anno a un solo personaggio e il francese è un personaggio nuovo e già mi crea problemi perché dalla casa editrice a molti lettori dicono sì ma quando torna no i francesi non lo so se mi capita domani una storia no quindi inizio l'indagine raccolgo il materiale e non c'entra nulla e salta fuori un altro personaggio io non so davvero cosa fare ma parte che io trovo a parte approfitto per salutare tutti quelli che si sono collegati vedo patrizia rinaldi sarah bilotti brunella caputo siete siete in tanti e vi saluto federica politi adriana pasetto elisa marini bruno volpi grazie grazie di essere con noi e ripeto come ho detto all'inizio del collegamento se avete delle domande da fare massimo credo che sarebbe insomma felice di rispondervi saluto anch'io saluto anch'io tutti ho sentito patrizia patrizia rinaldi sì che tra l'altro visto proprio proprio ieri ho visto patrizia a book pride quindi ho avuto insomma l'onore di di vederla anche dal vivo visto che avevamo fatto la presentazione ma collegandomi a quello che dicevi tu prima io credo che comunque in tutti i tuoi romanzi al di là dei personaggi ci sia una connessione nel senso che io leggendo il francese ho trovato in parte la signora del martedì in cui parlavi di corpi comunque socialmente usati corpi che si sono prostituiti nel romanzo e verrà un altro inverno parli di una provincia bigotta e chiusa e mi sembra che tu in questo romanzo abbia voluto comunque trattare entrambe le tematiche sì allora da un lato perché la prostituzione questa storia dei corpi usati socialmente per me è una grandissima tragedia che non sfiora nessuno e quindi è una cosa che che mi tocca mi tocca mi tocca perché forse l'ho guardata da vicino ma mi tocca perché è una situazione che giorno dopo giorno non cambia assolutamente adesso peggiora noi tutti i giorni ogni volta che ascolto le notizie di guerra dall'ucraina non possono non pensare come influirà la guerra nel mondo della prostituzione con l'introduzione di donne ucraine perché la guerra è sempre stata anche questa la produzione dal punto di vista del mondo della prostituzione di quello che trovo e quindi la provincia è il fatto che la provincia negli l'esistenza di questo problema e continua a negare quindi tu come autore racconti una storia negata no all'interno di un mondo che nega no e quindi vive una doppia contraddizione da questo punto di vista però una contraddizione essenziale perché parliamo di vite umane oggi la parola vita umana si spreca no il primato dell'umanità eccetera eccetera ma l'umanità ce l'abbiamo a due passi fingiamo che che non esista e questa è una tragedia perché io in realtà parlo soprattutto di un giro più alto ma se pensiamo alla tratta che vera schiavitù l'altro giorno ho fatto la presente venerdì ho fatto la presentazione a padova e alla fine è intervenuta una volontaria che ha raccontato ulteriormente quello che succede a queste donne vittime di tratta che le prendono dall'italia le spostano in polonia poi le spostano in olanda dall'olanda le risposta nell'italia è una vita d'inferno che in qualche modo a un certo punto deve avere un riconoscimento allora l'idea che suggeriscono il romanzo e le persone come il francese spariscano possono rimanere nei romanzi ma spariscono dalla vita reale mi sembra una buona proposta ma infatti parliamo di queste di queste donne di cui parli nel romanzo visto che quando si parla di di mesona si pensa subito agli atelier e alle modelle in un mondo patinato nel quale si esibiscono i corpi che fungono da contenitori di bellissimi abiti da vendere in realtà qui sono i corpi che sono venduti e sono loro l'oggetto di vendita perché questo concetto non si riesce a scalzare è un problema della società contemporanea addirittura è tutto a semplice mercificazione compresi i rapporti umani beh si mercifica sempre di più tutto a un prezzo ecco questo è tutto un prezzo e tutto è possibile c'è un detto molto diffuso nel mio territorio che basta pagare no basta che te paghi no e funziona in tutti i campi ma funziona soprattutto nel mondo del sesso che ormai è una grande stanza dove uno entra sceglie e compra ma come anche è emerso chiaramente dal dal mondo dei desideri delle fantasie molto spesso non c'entra nulla e se è qualcosa che non ha a che fare con il sesso va oltre e quindi è ancora più scuro nel senso che qual è il problema che se una prostituta vende il proprio corpo vuol dire che è gestita da uomini ed è costretta ad accettare chiunque ogni cliente che le viene imposto e anche ogni pratica noi non ci pensiamo mai ma la questione è complessa a questo punto di vista può essere anche molto difficile se invece una donna si autogestisce non ha protettori non è un tolizanchetta no che decide per lei non vende più il proprio corpo vende un servizio il sesso perché perché può dire di no e questa è un'enorme differenza in un mondo tanto sappiamo che la prostituzione questa fase storica non verrà assolutamente cancellata non abbiamo gli strumenti sociali per cancellarla dalla faccia alla terra e quindi recuperare la dignità delle donne che lavorano nel mondo della prostituzione è fondamentale è un primo passo fondamentale per renderle anche più sicure rispetto a quello che succede quante nella storia della prostituzione quante donne vittime di tratta sono state incise perché scoperte perché è un incinto quanto e voglio dire come punizione perché era assolutamente vietato quindi cancellare la figura maschile a questo mondo rimane sempre molto importante però ripeto qual è il vero problema è la provincia e la questa finta morale che ci impone di essere dei finti bacchettoni e non guardarci intorno senti ma senza appunto spoilerare ovviamente ma visto che ci sono tante storie di donne all'interno di questo romanzo come sono arrivate appunto a mercificare il proprio corpo sempre solo una necessità un cercare di comunque guadagnare attraverso il proprio corpo noia perché ovviamente ci sono personaggi diversi che si ritrovano poi ad avere a che fare con con zanchetta quindi tu racconti diciamo più le loro le loro storie che storie racconti attraverso queste donne guarda la cosa che ho imparato da questo romanzo e di cui non avevo la minima idea prima nel senso non ci avevo mai pensato è che dietro ogni storia di prostituzione c'è una storia punto una storia personale che non ha nulla a che fare con l'estero non si può voglio dire generalizzare mai dietro queste storie assolutamente e allora come dicevi tu hai detto la parola noia non è noia ma c'è la questione per esempio di mantenere un certo un certo reddito all'interno di determinate classi sociali la classe media che si sta impoverendo sempre di più può capitare che la casalinga però quello il mondo delle escort è un mondo dove c'è sempre un tono in zanchetta ma è leggermente diverso poi le motivazioni sono sempre motivazioni di fragilità che sono il denaro ma voglio dire un caso eclatante successo qui intorno a padova e si è scoperto che una donna aveva iniziato a costituirsi nel livello dei toni zanchetta perché si era separata aveva bisogno di soldi perché aveva doveva mantenere la casa i due bambini eccetera una volta scoperta poi sono arrivati i servizi sociali eccetera eccetera era stata una tragedia ma voglio dire le motivazioni sono sempre diverse le motivazioni per esempio della della tratta sono motivazioni di povertà ma la povertà non è l'unica cosa ci sono c'è giro le studentesse padova c'è un vento ci sono grandi università padova soprattutto ci sono anche le studentesse che si mantengono così ma ci sono poi il problema sarà affrancarsi dei toni zanchetta perché non è che dici beh mi sono laureata adesso mi sono i soldi sono a posto ciao non funziona esattamente così bisogna affrancarsi e questa è un'altra questione molto difficile da capire ma anche secondo me molto importante perché è un problema di liberazione di corpi liberazione di persone qual è il problema vero il problema vero è che ormai nessuno denuncia più un protettore insomma è stato condannato recentemente un protettore albanese qui in veneto a sette anni di carcere ma perché l'hanno pizzicato attraverso i soldi non sapeva gestirsi bene i quattrini capito ma non nessuno l'aveva denunciato e quindi quei inquirenti sono riusciti a ricostruire ma qualcosa bisogna cambiare anche dal punto di vista legislativo poi parliamone di quei sette anni quanti ne farà adesso che chiudo qui la polemica senti ma come hai fatto a documentarti su questa tematica considerando che parliamo comunque di ambienti criminali che definisci iper realistici ma anche poco conosciuti cioè al corso dei pericoli voglio dire come che ci si che si crea un romanzo di questo tipo beh ti ho perso riprendiamo scusateci ma questi sono l'inconvenimento risaluto questa bella gente che sta seguendo la nostra chiacchierata e ti rispondo no allora nei romanzi di questo tipo tutti può inventare la trama però gli ambienti che racconti personaggi le storie devono essere molto molto legati alla realtà almeno questa è la mia concezione per cui come tutti i giornalisti investigativi devi trovare un contatto un contatto che ti presenta e poi intervisti parli tanto guardi osservi e funziona 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 così e il problema che il problema positivo però è che viviamo in una società per cui tutti amano comunque essere raccontati per cui tutti hanno voglia di parlare basta trovare la chiave giusta e tutti ti vogliono raccontare ti vogliono manipolare ti vogliono dire che in fondo sono dei veri imprenditori e magari uno di loro si chiama veramente si fa chiamare il francese perché uno che vuol fare che fingere di essere un macro vecchio stampo pensare invece avrei immaginato che avresti trovato delle ritrosie insomma che non tutti si volessero così mettere a nudo raccontare una cosa del genere cioè quindi mi veramente mi lascia mi lascia ancora più più perplessa che non si rendano appunto conto del ruolo che hanno all'interno di 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 questa società cioè che comunque sì adesso vedo abbiamo carlotto bloccato no si è sbloccato carlotto eccolo qua ci siamo sì quindi appunto pensavo che non che non si raccontassero così facilmente quindi tu dici lo fanno proprio con l'idea della manipolazione beh alcuni altri perché per esempio la questione di essere liberate dalla dalla figura maschile è una cosa che parlando delle prostitute esce esce in maniera molto chiara molto più interessanti sono i clienti motivazione dei clienti che ho cercato di di raccontare che lì è un mondo è il mondo straordinario della provincia che dietro una facciata dove veramente veramente adesso so che ci sarà un po di cast tra un po di una di una non so come ma insomma di una escort che sta andando in pensione a parola molto 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 famosa e lei confermava il fatto che comunque tutti c'è ne voglio dire è una questione della costituzione a questione trasversale al mondo dell'uomo e trasversale socialmente e questa è una cosa che fingiamo sempre di non capire però dall'alto al basso della società c'è c'è questo mondo che però ha gestito così un mondo oscuro è un mondo comunque dove legittimi la violenza come clienti tu legittimi la violenza invece il problema è togliendo dalla figura maschile hai capito il rapporto diventa diretto non legittimi più la violenza tutto ruota intorno ai soldi il concetto che si sta facendo ogni giorno più forte appunto che si può ottenere qualsiasi cosa pagando come dicevamo prima e ci ricordi attraverso i tuoromanzi che il veneto è la terra del nero e dei maghi dell'evasione eppure sento sempre parlare dei veneti come dei dei grandi lavoratori ma uno quindi non esclude l'altro io dico sempre che ci sono due veneto nel senso da una parte c'è il veneto straordinario di un di un'imprenditoria geniale dalla un'imprenditoria che voglio dire che ha veramente uno sguardo interessante positivo rispetto al futuro c'è il mondo dell'università c'è un mondo straordinario del volontariato invento che la regione italia con maggior numero associazioni c'è un mondo estremamente positivo rispetto alla cultura si si vive bene in questo territorio poi c'è un altro veneto che quello dell'illegalità c'è un sistema economico da sempre che permette lo sviluppo di forme di illegalità e quindi il nero il lavoro nero nero inteso come denaro poi il lavoro nero lo sfruttamento dei migranti che oggi si traduce in una parola molto precisa caporalato caporalato scoperto dalle dalle inchieste quel mondo il mondo di illegalità economica il mondo che finanzia questo tipo di locali di giri e soprattutto quello e in quel mondo si sviluppa la la prostituzione a vari livelli insomma poi ricordiamoci sempre la tratta ma la tratta un'altra cosa perché la tratta e la costituzione di strada dal camionista chi passa eccetera eccetera ma in un altro mondo il mondo dei locali eccetera viene foraggiato da questo giro di nero impressionante che in questo territorio c'è perché la ricchezza si accumula anche attraverso questo anche attraverso l'evasione che il nero significa anche versione sistematica delle imposte e noi avremo bisogno in questo paese che tutti pagassero le imposte perché insomma no ma sembra che chi non le paga sì alla fine sembra che chi non le paga sia più intelligente degli altri più furbo degli altri quasi visto con ammirazione finché ci sarà questa mentalità per cui il furbo comunque visto quasi con cos'è da emulare proprio per per essere per fregare l'altro insomma c'è sempre un po questa mentalità no finché non non capiremo che comunque se pagassimo tutti sicuramente non verremo torchiati quelli che poi alla fine le pagano senti c'è un commento di luciana fredella qui poi mi associo con una domanda dice posso essere sincera mettoni sta simpatico alla luce di di appunto di dell'uscita del tuo romanzo insomma adesso è in giro da da un po che pareri hai avuto dei tuoi lettori c'è stata una netta divisione tra quelli che hanno detto guarda me proprio sta sulle scatole non lo posso vedere e quelli che invece lo così l'hanno preso in simpatia oppure adesso non trovo ecco oppure come chi ha detto anti eroe tutto negativo sfruttatore senza morale no allora ma innanzitutto devo dire che voglio dire il francese con luciana fedella avrebbe poca vita nel senso farebbe correre alla pezzi ma conoscendo luciana ma a parte questo devo dire che sta simpatico alla stragrande maggioranza delle lettrici e dei lettori sta proprio simpatico io non capisco perché l'autore nel senso che mi sta capitando la stessa cosa che mi è capitata con arrivederci amore ciao e giorgio pellegrini anche l'editore aveva detto questo libro sarà così antipatico che poi puoi dire addio al personaggio invece no e qui ancora peggio nel senso che proprio il francese ma secondo me è proprio simpatica ma secondo me perché manipola manipola lui dice ma in fondo sono un poveraccio sono qua voglio no voglio cambiare voglio qua ma realtà secondo me rimane sempre un po pure perché c'è una cosa da dire lui dall'inizio alla fine ragiona da pappone anche quando il mestiere gli diventa complicato ragiona sempre così invece a questa questa simpatia che voglio dire io nel lettore che io rispetto assolutamente anzi se questo significa poter scrivere un secondo romanzo perché in fondo ecco questa è una questione che vorrei discutere con te ma secondo te i personaggi seriali nascono solo dagli autori o anche dall'apprezzamento dei lettori perché secondo noto sempre di più che i lettori se un personaggio è simpatico e funziona si preoccupano che continui a esistere tu cosa ne pensi mi piace questa contro contro intervista e allora io penso che sia comunque un insieme delle due cose intanto da quello che sento raccontare dagli autori non sempre quando si crea un personaggio sia l'idea che che diventerà qualcosa di seriale magari nasce come storia a se stante ma poi appunto attraverso il parere dei lettori il fatto che si voglia leggere ancora su quel personaggio perché come si diceva prima ha bucato quindi ha fatto presa per n motivi anche perché sta antipatico a me francamente posso dirti sta antipatico non solo lui ma anche quell'altra di cui parleremo l'ardizione e di cui avevamo parlato anche durante la presentazione però penso che sempre un'arma a doppio taglio il personaggio seriale perché poi alla fine un po come camilleri ormai camilleri si pensa a montalbano camilleri ha scritto tanto altro quindi il fatto di non rimanere legati secondo me è un pregio per l'autore che si mette in discussione quindi cerca di creare qualcos'altro i lettori se ne faranno una ragione compresa la sottoscritta a me piace la sperimentazione però capisco che poi ci sono delle dinamiche anche editoriali che vanno al di là dello scrittore al di là del lettore sono dinamiche editoriali che si basano su quanto quel libro ha venduto e quindi su quanto si può puntare su quel personaggio io credo che sia un insieme di cose non penso che sia o una cosa o l'altra forse anche questo che avevo detto durante la presentazione a me fece ridere Loriano Machiavelli quando mi raccontò che Sarti Antonio a un certo punto si era talmente stufato di scriverne che l'aveva fatto ammazzare insomma ma i lettori gli hanno talmente rotto le scatole tra virgolette che lui in qualche modo ha dovuto riportarlo in vita quindi quanto i lettori sanno essere degli scocciatori per fare in modo che gli scrittori scrivano di quel personaggio e quanto gli scrittori abbiamo appunto voglia di sperimentare secondo me è anche giusto che si provi guarda lo stesso De Giovanni voglio dire anche lui con Ricciardi ogni momento ma quando scrivi di Ricciardi quando scrive nel frattempo ha creato tanti altri personaggi Bastardi di Pisto Falcone Mina Settembre Sara adesso addirittura che si è scostato totalmente dal genere eppure sono libri bellissimi uno più bello dell'altro quindi perché sempre dover correre dietro i lettori te lo chiedo ah no 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 i lettori bisogna ascoltarli soprattutto se sono lettori organizzati dal punto di vista della produzione di critica e di idee secondo me è e questo è fondamentale perché fa parte fa parte del gioco dopo di che bisogna ascoltare meno di tutti bisogna ascoltare gli editori sì perché gli editori veramente fanno il loro lavoro e quindi se una questione funziona te la farebbero ripetere all'infinito ma per me come dicevo all'inizio è importante la sperimentazione e infatti dicevo sono nei guai perché sono cinque anni che non scrivo dell'alligatore non è non so quando quando tornerà però se penso a Andrei Camilleri per esempio mi hanno tirato fuori il maestro mi spaventa sempre ecco lui mi spaventa sempre perché Montalbano è successo da un lato ma la migliore produzione di Andrei Camilleri sono stati gli altri romanzi ha scritto delle cose di una bellezza straordinaria e che però in qualche modo non viene riconosciuta se non all'interno dei lettori più affezionati mentre c'è rimasto Montalbano e questa è una questione che secondo me lui non lo so se sarebbe così contento adesso però è un gioco che funziona quindi anche rispetto ai lettori il lettore non è più quello di vent'anni fa è un lettore molto diverso no dico il lettore di questo tipo di letteratura è un lettore molto più preparato più attento perché perché non ci sono più soli critici giornali anzi sono sempre meno ma ci sono c'è una sorta di auto organizzazione del mondo dei lettori che produce molte più idee da questo punto di vista e quindi ormai è diventato una sorta di gioco ma è un bel gioco no? è un bel gioco è un bel gioco che stimola anche molto di più penso di scrittori proprio per questo motivo ti riporto un po' di commenti uno di Katia Campo che scrive il tuo libro più bello ai nord est lì vabbè ovviamente ti riporto Carla Marocco Pellegrini mi terrorizza ma è un gran personaggio ti bacio Brunella Caputo scrive la capabilità dei personaggi femminili in questo romanzo li rende quasi protagonisti nascono prima i personaggi femminili con la loro determinazione o Zanchetta con la sua ingenuità che a tratti viene fuori? Ma prima è venuto fuori Zanchetta perché prima avevo bisogno del personaggio quando è venuto fuori Zanchetta poi ho pensato al romanzo e non ero nemmeno sicuro che ci fosse il materiale giusto per il romanzo per il personaggio sì però Brunella ha ragione sul fatto che i personaggi femminili sono i veri protagonisti del romanzo è un è un romanzo corale e sono è che lì secondo me io ho curato molto i personaggi femminili anche i minori nel senso quello che appaiono poco nel romanzo però sono ben definiti perché appunto c'è questa coralità questo punto di vista molto forte per cui anche anche diverse non solo nel mondo voglio dire della prostituzione ma c'è anche un personaggio Maria Tristezza a cui sono molto molto affezionato perché esprime proprio un certo tipo di mondo del lavoro qui in questo territorio scusa che nel frattempo sembra che ho in casa in fantasmi questa è la diretta con Massimo Carlotta mi si è spenta la luce scusami non ti volevo interrompere si è vero sono personaggi personaggi femminili sono anche appunto se poco accennati ma sono molto ben delineati e devo dire che mi sono appassionata a ogni storia che racconti proprio è piaciuto molto il punto di vista femminile nel tuo romanzo Luciano scrive io credo che sia il personaggio a determinare la sua serialità e l'ardizione mi sta sul pifero ossessionata da Tony la ucciderei ma no poverino guarda come Massimo sa anche a me non sta molto simpatica ne approfitto per fare appunto la prossima domanda a parte appunto ti dico veramente a me sta antipatica perché mi sembra proprio lo spaccato della mentalità di un poliziotto che ha già decretato un colpevole ancora prima di avere il reato allora ovviamente Zanchetta lo sappiamo che cosa fa che tipo è e tutto quanto però a un certo punto si ritrova dall'altro lato della barricata e va in crisi perché non se lo sarebbe mai aspettato e non dico altro ovviamente per non fare spoiler però ti chiedo proprio questa mentalità che ovvio che in questo romanzo è inventata ma sappiamo benissimo che esiste quindi spesso uno è colpevole al di là di ogni prova stiamo diventando sempre di più una società kafkiana quindi il processo soprattutto mediatico unito alla metamorfosi delle personalità guarda proprio in questo periodo stiamo assistendo a un processo mediatico terribile alcune trasmissioni televisive sui social proprio rispetto a un caso caduto nel nord est dove si sta costruendo la figura di un colpevole prima ancora che le indagini arrivino a compimento proprio ed è una cosa terribile perché quella persona non si toglierà più di dosso comunque anche io non lo so se è responsabile o meno certo che la procedura è bizzarra che venga processato da social e trasmissioni televisive e non in un'aula di tribunale evidentemente non ci sono elementi però questo ci fa capire quanto l'opinione pubblica sia importante oggi per arrivare a sostenere certe tesi all'interno di processi indagini e questo non va bene in una democrazia voglio dire moderna non dovrebbe nemmeno esistere non dovrebbe essere nemmeno concepita ma ci siamo arrivati perché abbiamo permesso a una macchina mediatica incapace di raccontare la vera realtà del crimine di cristallizzarsi su alcuni casi di cui non ci libereremo mai si è creata questa macchina mediatica che è diventata una macchina mediatica potente da tutti i punti troppo troppo potente e questo ci spaventa un po dall'altro c'è il fatto che secondo me è molto umano l'atteggiamento però della pizzo sa che zanchetta è un vero bastardo se lo vuole e lo vuole togliere dal da questo mondo lo vuole schiaffare in galera a lungo forse per lei per sempre e secondo me è molto umano come atteggiamento dopo di che ho scoperto che in fondo sta simpatica solo a me nel senso che si dicono tutti che che sta sulle scatole soprattutto le elettrici all'elettrici sta fondamentalmente di parte che infatti mi dico ma nel prossimo non c'è l'addizione non lo so questo è non lo so però secondo me è un personaggio invece molto molto vero molto insomma che ha un suo spazio posso essere anche d'accordo ma perché nel lettore c'è questo atteggiamento quasi protettivo nei confronti di zanchetta se vogliamo dire così quello che a me dà fastidio e io sarei la prima a volerlo vedere in galera un personaggio del genere però una figura professionale come una poliziotta deve avere soprattutto l'obiettività ed è questo che a me personalmente e presumo anche agli altri lettori che non hanno un buon una buona opinione su di lei è il fatto che c'è un abuso di potere in ogni caso perché tu al di là che uno sia colpo e volo innocente tu devi fare il tuo lavoro tu devi avere delle prove devi avere qualcosa di concreto per poter mandare in galera qualcuno poi se non le hai e questo continua a essere in giro è quello lo so è un problema purtroppo che lo viviamo lo sentiamo tutti i giorni di criminali che sono liberi e beati però proprio il ruolo che ha l'addizione all'interno del romanzo che infastidisce proprio per il fatto che lei dice allora tu fai quel tipo di attività quindi io ti sbatto in galera è quello che secondo me dà fastidio capito poi è certo è umana è umana ovviamente però se tu ricopri quel ruolo devi anche ricordarti di portare avanti è umana ed è esasperata esasperata certo perché è l'unica che da donna capisce quello che stanno quello che vivono le prostitute del giro di zanchetta in generale e lei si e lei è esasperata perché non riesce a intervenire in questo mondo certo infatti adesso non voglio spoilerare ma alla fine troverà comunque un modo per entrare in contatto no con con questo mondo però io però vorrei leggerne ancora nel senso che ovviamente non prendo le sue parti però è un personaggio che rimane impresso anche sulla 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 storia caspita sto leggendo intanto una mega domanda di di gino marchitelli vediamo cosa scrive gino dopo averti seguito nello straordinario spettacolo di denuncia sulle morti di amianto alla fondazione luigi lungo con io io mundi e aver colto la tua grande sensibilità sui temi sociali di lotta ti viene in mente anche di raccontare prossimamente delle nuove schiavitù come nel caso dei pakistani in caporalato nella tipografia veneta oppure raider sfruttati dei nuovi yuppies del terzo millennio penso adesso scusa mi ti rubo la risposta per ti lascio il campo cioè veramente c'è talmente tanto da da raccontare di di questa società che si attinge a piene mani tante volte non si ha bisogno di inventare assolutamente nulla no massimo no ma gino si riferisce sia visto lo spettacolo che abbiamo fatto sull'amianto che giro ormai ormai credo da vent'anni giro con questo reading sull'amianto e anche sulla questione del caporalato in vento quello che è successo la grafica veneta eccetera l'abbiamo si l'abbiamo già portato in teatro qui a parola abbiamo fatto una serata di solidarietà per raccogliere fondi abbiamo fatto un po di spettacolo io ma in realtà da questo punto di vista voglio rispondere a gino che sto dicendo sto lavorando a un reading sulla resistenza che porterò sempre alla fondazione luigi lungo quest'estate benissimo senti io non voglio usare un tono polemico ma proprio molto molto semplicemente notare che adesso c'è tutto una sensibilità nel declinare il femminile una professione addirittura inserire nelle preghiere in chiesa non si dice più soltanto i fratelli si dice fratelli e sorelle si creano sempre dibattiti sul sul femminicidio di cui comunque sentiamo praticamente notizie tutti i giorni sullo sfruttamento della prostituzione ma non sembra come gettare proprio dei piccoli sassi in uno stagno immobile nel senso dopo tanto darsi da fare ti sembra che qualcosa sia cambiato attraverso la letteratura attraverso tutti questi questi micro cambiamenti credi che veramente sia cambiato qualcosa anche parlare della della prostituzione che possa davvero cambiare la realtà femminile la realtà della donna a 360 gradi no la realtà della donna cambiarla 360 gradi nasce da una profonda rivoluzione culturale della società e anche dal cambio di rapporti di forza tra uomo e donna all'interno della società dovete prendere il potere in qualche modo da un sacco di tempo no ma è vero perché sennò non si cambia il mondo cioè il modello patriarcale adesso non entrare nei massimi sistemi è fallito da tempo cioè bisogna riconoscerlo solo che il processo a questo punto di vista è ancora molto lungo e complesso allora i libri non cambiano niente nella maniera più assoluta nel senso che non sono in grado di modificare la realtà non è mai accaduto nella storia però possono modificare le coscienze e comunque ci sono certi tipi di letteratura come parte romanzo poliziesco e comunque noire che che viene definita dalla metà dell'ottocento letteratura morale c'è poco da fare quello è letteratura morale e letteratura politica e da questo punto di vista noi autori abbiamo degli impegni precisi io mi sento in dovere ormai da quando ho iniziato di un percorso narrativo in cui di volta in volta scelgo quelle tematiche che mi sembrano utili da condividere con il lettore io questo posso fare posso farlo nella maniera più onesta possibile ma oltre non riesco ad andare e però io credo che un autore debba attraversare il proprio tempo occupandosene cioè dicendo esattamente quello che pensa con onestà ma dicendo cioè prendendo posizione e invece il problema che da 30 anni a questa parte il mondo della cultura in italia prende poco posizione in generale qualcosa si è modificato da questo punto di vista e io vado a vedere per esempio gli appelli siamo sempre i soliti che rifirmano e vuol dire che qualcosa si è modificato a questo punto di vista ma per questo io dico sempre abbiamo bisogno come il pane di autori giovani dobbiamo modificare profondamente dal punto di vista generazionale il mondo della cultura in italia soprattutto nella letteratura perché i giovani sono in grado di portare punti di vista che sono molto diversi dai nostri metto di scrivere però ma no ma ce ne sono ce ne sono ancora troppo pochi secondo te perché non hanno spazio i giovani non hanno spazio il mondo della letteratura diciamocelo francamente tra di noi poi non lo diciamo nessuno è un mondo che condivide poco non condivide sapere cerca di di resistere più a lungo possibile dal punto di vista generazionale non lasciare spazio invece questo è sbagliato abbiamo abbiamo bisogno di giovani complessivamente perché sono molto diversi da noi e sono in grado di portare un grandissimo contributo insomma speriamo leggevo il commento di katia campo ad esempio pulici è molto bravo infatti ci piace tanto anche anche per giorgio e se non per niente si chiama contorni di noire il mio blog quindi comunque in mare il mio genere preferito anche se faremo magari una puntata a parte su quello che viene considerato noire o che viene etichettato come noire e poi non lo è però sono d'accordo che comunque sia sempre utile questo tipo di letteratura proprio per quello che dicevamo all'inizio insomma come forma di denuncia come forma di sensibilizzazione il cui presente massimo carlotto è stato anche nominato dal regista del toro fra i suoi lettori preferiti e lui ha firmato un noir chiamato all'oscurità attende chi la cerca ma anche il francese cerca l'oscurità il francese spunta diretto dall'oscurità è un produttore di oscurità produttore produttore di oscurità è un serial killer di esistenze e quindi lui proprio proprio arriva proprio dal buio anche se io sempre difficoltà noi usiamo correntemente la questione del buio no per il male no la luce bene quando io sempre questo problema quando il male così evidente per me è luce accecante non ecco che bella questa è proprio luce accecante perché lo vedi lo capisci non lo percepisci ed è così palese la cosa che insomma perché ricacciarla nel buio siamo noi chiamiamo ricacciare nel buio le cose che che non ci piacciono invece se fossero alla luce sotto la luce potremmo eliminarle più in fretta bellissima questa questa risposta tu pensa che abbiamo già praticamente passato un'ora a chiacchierare e quindi io ti volevo fare prima di farti la canonica domanda che poi è un po indirizzata perché qualche informazione me l'avevi già data ma tu parlavi appunto prima di di guerra e ho letto pochi giorni fa su su twitter che lee wood barclay ma seguito poi da altri autori americani grandissimi come steven king ha preso una posizione decidendo di non vendere più i suoi diritti agli editori russi ma ha senso prendere una una posizione del genere no tanzi tutto mi viene da dire perché i russi hanno sempre eh tradotto i miei romanzi non mi hanno dato mai un centesimo quindi alla luce di pubblicano pubblicano poi scopi c'è vedi la copertina identica un cirillico e capisci che ti hanno oppure anche lo che chiedono anche la casa editrice poi non fa non pagano mai per cui insomma è una a parte a parte questo io credo che sia sbagliato perché quello che è successo per esempio con dostoievski il corso di dostoievski di paolo nori è profondamente sbagliato la regge miglia aver vietato una mostra fotografica la partecipazione di un grande fotografo russo che poi è stato arrestato dalla polizia perché protestava contro putin è ancora peggio se noi non capiamo chi voglio dire chi percepiamo come nemico voglio dire non usciamo mai a capire esattamente come come sono le cose ecco quanto è stato importante per esempio la letteratura tedesca la letteratura italiana dopo la guerra no per capire cosa è successo durante la seconda guerra mondiale ma anche prima c'era solo che prima leggeva molto meno gente per cui non si capiva bene ma qui c'è la possibilità invece bisognerebbe allargare far capire quello che succede all'interno della russia oggi come per esempio è cambiata la società ucraina ma non ce lo raccontiamo non ce lo raccontiamo io vedo delle cose dei video della situazione russa che veramente non capisco non capisco perché non ho gli strumenti per capire e questo mi mette molto a disagio perché do dei giudizi sapendo di non conoscere bene in fondo alla situazione perché c'è un'informazione che comunque è malata e quindi ci troviamo in situazione qui possiamo dobbiamo essere contro la guerra no nelle guerre chi patisce come diceva gino strada 90 per cento delle vittime sono civili e questo dobbiamo guardarcelo sempre dopodiché sulla questione ucraina è vero che sono vittime di guerra però io e sotto un altro problema secondo me di alto profilo umano che adesso c'è la distinzione tra profugo e profugo cioè se arrivi da una guerra centroafricana non vali niente se arrivi dall'ucraina e hai diritto e la cosa incredibile su questo che siamo così ignoranti che non riusciamo a capire che quello che è successo in siria è esattamente quello che sta accadendo oggi in ucraina ma siccome l'ucraina c'è più vicina 2300 km di distanza allora ci sentiamo più coinvolti e questo io credo che sia profondamente la mancanza di informazioni io incontro persone che quando parli di siria ti guardano ti dicono sì e ti danno delle giustificazioni delle cose rispetto al fatto però voglio dire le guerre il percorso di putine è stato quello per cui è viva la letteratura leggere la letteratura per esempio io sto aspettando da tempo non riesco a trovarlo sto cercando anche il francese ma non riesco a trovarlo un romanzo che mi parla di quello che è successo in siria perché quello che c'è sui siri è fondamentale perché i russi hanno avuto un ruolo enorme nella situazione siriana ma nessuno me lo racconta e quindi la letteratura comunque uno strumento fondamentale il problema è sempre il veicolare le informazioni che è quello che si diceva anche prima nel senso che ormai sono tutti tuttologi e quindi ognuno racconta la propria versione dei fatti senza avere in mano gli strumenti per farlo quindi ci sono queste discussioni lunghissime che io assolutamente non qui non partecipo ma non solo non come dici tu non avendo gli strumenti è inutile anche esprimere un proprio parere su nulla su nulla quindi è è assurdo anche voglio dire prendere determinate posizioni così drastiche proprio perché non non ci siamo dentro comunque non voglio che questo diventi un dibattito politico perché non ne ho assolutamente le nelle intenzioni negli strumenti io non essendo un'esperta e ovviamente concludo ma ti dico cioè vorrei far vedere non solo avevo 200 mila domande che gli ho fatto l'ho torchiato per bene massimo ma ovviamente a te chiedo se leggeremo ancora del francese e e so che stai scrivendo questo a questo romanzo a dieci mani di cui avevamo già accennato con un primo incontro con con luciana poi ne abbiamo parlato anche in feltrinelli a che punto sei ci vuoi raccontare qualcosa piccolino siamo stiamo concludendo un bellissimo percorso e i miei compagni di cordata li ho già li ho già citati con il permesso di pasquale di pasquale ruio certo che era presente a milano alla feltrinelli piazza piemonte poi sarei massimo torre la grande patrizia rinaldi alessandro acciari e niente stiamo scrivendo questo romanzo dieci mani è sempre una bellissima esperienza sai che a me piace ogni tanto scrivere a più mani perché si impara tantissimo e questo è un gruppo di professionisti da qui veramente ho imparato tanto e niente sarà il prossimo romanzo che non so quando uscirà ma uscirà dal mio prossimo romanzo cioè prossimo romanzo mio ma collettivo il francese tornerà non lo so si lascia con questo sì sì nel senso che romanzo sì ho un'idea di romanzo adesso vediamo quindi lettore state in campana perché ma sai perché io lo so adesso come chiudiamo il collegamento poi arrivano i missili dei dici sì è un momento a noi avevi detto che era l'alligatore hai ragione hai capito hai ragione non impegnarti assolutamente diciamo che noi saremmo contenti anche di leggere anche l'autore e quindi io insomma ti voglio salutare con questo augurio di leggere ancora del del francese ma di 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 qualsiasi altro personaggio tu vorrai scrivere e anche soprattutto di questo romanzo a dieci mani che sono molto curiosa di leggere intanto ringrazio davvero tutti quelli che si sono collegati siete stati tantissimi e vi ricordo perché ancora non l'aveste acquistato in libreria mi raccomando massimo carlotto il francese mondadori editore io ti saluto massimo è sempre un piacere parlare con te non scappare alla prova a tutti ciao 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 ciao